Pronti? Partenza via! Inizia il corso estivo di Arte per te! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te! Sono emozionata! Abbiamo raggiunto il numero! Bravi, bravi! Grazie, grazie per la fiducia! E allora abbiamo raggiunto il numero minimo per partire con il corso estivo e io sono contentissima perché avevo raccolto materiali, messo via cose e se non arrivavamo neanche al minimo mi ero detta ma che ne farò di tutto questo materiale raccolto? Bene, tanta parsimonia è servita a qualcosa e quindi come promesso martedì 18 giugno alle ore 18 prende avvio il corso estivo di Arte per te! Arti libere applicate! Viaggeremo nel mondo dell'arte e della creatività! Vi dico sin da subito che comincieremo con gli acquerelli! Iniziamo da ciò che già conosciamo bene, quindi un bell'acquerello estivo per colorare la nostra estate, poi lasceremo gli acquerelli e passeremo ad arti pratiche e ci divertiremo un sacco quest'estate! Avete una settimana di tempo per regolarizzare le iscrizioni, quindi Gabriele vi avrà già inviato tutto quello che c'è da sapere, vi ricordo che l'iscrizione è di 150 euro, ci faremo compagnia fino alla prima settimana di settembre con appuntamenti creativi che ci coinvolgeranno in tecniche via via sempre nuove! E allora vi aspetto intanto giorno 18 cominciamo con un acquerello stile marittimo, vedremo cosa faremo, qualcosa che riguarda il mare e poi via via evolveremo, ogni volta vi dirò per tempo i materiali che andremo via via ad utilizzare! Intanto vi ricordo di regolarizzare la vostra posizione contattandomi tra i messaggi privati o sarà Gabriele stesso che vi contatterà se avete già lasciato la vostra disponibilità per concludere appunto l'iter di iscrizione! Quindi sarete inseriti all'interno della nostra chat e verrete contattati per l'invio del link dei video che saranno via via in diretta ogni martedì dalle 18 alle 19! E allora mi raccomando, re mi imbarca per questa estate ricca di creatività, ci divertiremo un sacco, sono felice perché ho appena finito tutti i corsi invernali di Arte per Te e mi va di fare un corso un po' più spiritoso, un po' più 3D diciamo! Sì, voglio fare delle cose vere nel senso che escano fuori dal foglio! Nella prima ci manteniamo sul tradizionale e poi via via vedremo come evolvere! Bene, allora non mi rimane che ricordarvi di ultimare le iscrizioni come da accordi presi tramite messaggio privato! Se invece è la prima volta che vedi questo video e vuoi partecipare anche tu ad un corso di arte estivo, quindi che tratti contenuti prettamente estivi, un'arte che sia composita, quindi non tratteremo solo acquarello, solo acrilico o probabilmente non tratteremo molto spesso delle vere e proprie tecniche pittoriche ma creeremo qualcosa, E allora sei nel posto giusto, informati tramite messaggi privati e entra anche tu nella grande famiglia del corso estivo di Arte per Te! Bene, buon inizio a tutti, ci vediamo martedì alle 18, vi invierò il link e la diretta si aprirà sull'estate creativa! Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, al prossimo corso, ciao! Grazie a tutti!